prima di immergerti nel video ricordati di iscriverti al canale per rimanere sempre aggiornato sui nuovi contenuti ciao ragazzi bentornati sul canale buona epifania e finalmente anche se voi non lo vedete a causa del green screen ma questo è il primo video nella mia nuova postazione ovvero la nuova casa dove ho traslocato insieme alla mia ragazza quindi scusatemi per il rallentamento un po' nei video anche un po' nelle risposte sul canale telegram eccetera ma sono stato veramente veramente incasinato durante queste feste e adesso che più o meno ci stiamo sistemando riprenderò a regime sia con il lavoro che con il canale bene questo video è un video speciale ed è un video che avrei dovuto far uscire il giorno giusto che era il 31 dicembre ma tra una serie di cose e l'altra non sono riuscito comunque è il video per la celebrazione dei tre anni del mio profilo comunque dei tre anni da quando ho deciso di imbarcarmi in questa follia di questo gioco che ti drenna l'anima e il mio buon amico Jacopo che mi disse scarica questo gioco è molto divertente figo c'è la grafica figa c'è il pg della marvel scarico lo scarico lo scarico lo scarico l'ho ascoltato lui ora non gioca più e a me è rimasto questo enorme fardello comunque detto questo in questo video volevo portarvi un po nel mio profilo quindi aggiornando il mio profilo ai tre anni di gioco facendovi vedere i miei pg i miei domini il mio stato di progressione la mia alleanza eccetera eccetera insomma fare un punto dopo tre anni di gioco il l'account non è completamente free to play ma non sono uno di quelli che spende infinito che tutte le offerte le prende perché non ho un'entrata ancora da questo canale che mi possa giustificare una spesa del genere quindi diciamo che mi sono limitato a prendere offerte che mi interessavano che ritenevo valide piuttosto che qualche regalino ogni tanto che mi sono fatto ma niente di costante a parte il sigillo che è una cosa comunque ritengo utile allora iniziamo da ipg partiamo dai 5 stelle al momento abbiamo 8 rango 5 più un 6 stelle r2 che vedremo dopo gli r5 sono 8 ne potrei fare di più ho ancora 6 cat a base 5 un po di roba ho delle gemme rank up quindi il problema non sono le risorse per rangare come avete potuto notare nelle mie ultime aperture il problema sono ipg sono stato un po tanto sfortunato nell'ultimo periodo e non ho trovato pg meritevoli di tale rango quindi sono un po fermo da questo punto di vista per quel motivo allora il mio primo rango 5 molti di voi già lo sanno e ora ritenuto un po comunque uno sbaglio ma ci stava erano altri tempi è stata ela ela mi serviva un grosso picchiatore per per finire atto 5 e per labirinto al momento quando l'ho trovata non c'erano tutti pg super devastanti per lol che ci sono ora non c'era egon non c'era domino non c'era ghiut in 2099 quindi ela mi sembrava un'ottima scelta da quel punto di vista l'ho presa l'ho fatta rango 5 mi ha portato abbastanza avanti in un sacco di eventi al momento è chiaramente parcheggiata ho pg migliori ci sono pg migliori non rangate ela a rango 5 a meno che non siate pazzi come lo sono stato io perché comunque è un pg decisamente un po macchinoso un po superato quindi c'è sicuramente di meglio il mio secondo rango 5 se non ricordo male è stato il buon void void non mi pento neanche un secondo di averlo rangato a rango 5 un pg che mi ha portato ovunque ogni volta che ci sono rigenerazioni crescita e potere immunità incenerimento veramente in fisso praticamente nel mio team a q7 per la strada in cui devi applicare debuff piuttosto che anche in war come attaccante lo porto spessissimo un pg veramente incredibile niente da dire su void terzo rango 5 è stato il buon blade blade anche qui c'è un dibattito sul fatto che sia superato che sia un pg che non serve più a nulla io non sono affatto d'accordo avere un pg che in automatico senza fare nulla praticamente pigiando il blocco si auto pozza in una maniera incredibile se è qualcosa che ritengo sempre di incredibile valore se non che con con ghost rider fa di danni devastanti contro i cattivi contro i mistici eccetera eccetera è un pg ancora ancora super secondo me lo porto molto spesso in aq7 mi serve molto negli eventi mi ha fatto risparmiare una sbrega di pozione di rianima a un ottimo prestigio quindi blade assolutamente non me ne pento il rango 5 successivo è stato simbionte supremo altro pg di cui non mi pento assolutamente è sicuramente uno di quegli eroi che non consiglio come primo secondo rango 5 perché è un pg molto specifico serve in determinati contenuti contro determinati avversari in determinati match up non è un pg che vi portate fisso nel team perché è il classico eroe che quando è forte è soprattutto quando non è il suo match up giusto è molto mediocre però averlo come tool come coltellino svizzero da usare quando serve è veramente tantissima roba il campione di atto 6.2 l'ho fatto con lui la medusa di 6.3 l'ho fatta con lui in war me lo porto sempre per le varie meduse comunque chi buffa molto eccetera eccetera quindi assolutamente annailus anche un ottimo counter per annailus pg veramente incredibile in top alla classe mistica e quindi non mi pento affatto di averlo rangato a rango 5 successivamente c'è stato il buon vision vision preso con l'offerta due anni fa stavo accumulando l'unità per lol è arrivata l'offerta di visione le avevo avevo la gemma tecnica ho detto why not e non me ne sono pentito affatto incredibile power controller doppio immune me lo porto sempre in aq7 per i path delirio visto che non subisce i comandi invertiti lo porto anche per i path sangue veleno mi è stato utilissimo in war mi è stato utilissimo in un sacco di eventi non è un pg da danno quindi non aspettatevi i mega numeroni da lui ma non mi interessa perché non è quel tipo di pg e nel mio roster svolge un altro tipo di ruolo e lo svolge alla grandissima poi è arrivato avok avok avevo rank up gemma mutante tutto mi ci sono buttato pg che ho usato un po' meno degli altri ma è veramente tantissima roba l3 devastanti attacchi non da contatto che counterano korg eccetera eccetera ottimo per la strada war con spine psichiche l'ho usato anche in eventi ogni volta che c'era un avok per counterare avok è stato molto spesso nella mia difesa war visto che è un ottimo difensore quindi il fatto di avere un rango 5 che possa essere sfruttato sia in attacco che essere utile all'alli in difesa è una cosa che mi è sempre piaciuta molto quindi rangato ho dato un pochino di pietre giusto per senza esagerare perché comunque non servono avok pg super solido felicissimo di averlo a rango 5 finalmente dopo averla doppiata nell'apertura del cristallo nexus nonostante abbia anche trovato gemma tecnica nella stessa apertura che vabbè mi son tenuto finalmente sono riuscito a rangare a rango 5 quella che secondo me è l'eroina o comunque il pg in generale più forte di tutto il game ovvero fantasma purtroppo il gioco non mi ha ancora degnato di wasp 5 stelle quindi non ho la sinergia delle special imbloccabili per atto 6 però io l'ho usata tantissimo già a rango 4 singola senza sinergie quindi ora che è a rango 5 doppia senza sinergie mi va di stralusso me la porto un po' ovunque veramente un pg che non ha bisogno di spiegazioni aspettavo solo di doppiarla per farla a rango 5 ero quasi tentato di andare anche da singola poi finalmente ce l'ho fatta quindi ghost fantasma assolutamente era da fare ed è stata fatta fin troppo tardi dopo questi rango 5 abbiamo il 6 stelle rango 2 quindi sarebbe l'altro rango 5 a livello di progressione che è stata la mia bimba domino questo è stato il mio top pg è il mio top pg da tempo abbastanza in memore sculata da un cristallo 15k appena uscita e poi doppiata qualche mese dopo comunque portata a rango 2 veramente ci ho fatto tutto lol ci ho fatto tutto lol l'ho portata in tutti gli eventi con la sinergia con red hulk basta fare pesanti e gli avversari si sciolgono che dire domino anche lei non ha bisogno di spiegazioni l'abilità chiave di domino secondo me è molto sottovalutata perché il fatto di far fallire le abilità avversarie è scritta un po male non si capisce bene se aumenti la chance di far fallire o se faccia fallire lei l'abilità comunque io sostengo che da quando l'ho doppiata a me sembra che le abilità avversarie si attivino molto meno mi devo informare meglio su sta cosa e comunque il fatto di averla doppia me l'ha diciamo abilitata l'ha sbloccata anche per poterla mettere in difesa quindi tantissima roba domino veramente pg over the top per quanto riguarda poi i rango 4 andiamo molto velocemente abbiamo arcangelo usato per qualsiasi cosa rider per sinergia morningstar pg che adoro lo uso nei dungeon la uso anche in aq a volte rogue uno dei miei primi rango 4 un po dimenticata ma super sostenibile proxima appena rangata dopo aver trovato ah mi sono dimenticato dell'ultimo rango 5 raga l'ultimo rango 5 che stupido eccolo qua sapete tutti che l'ho trovato chi mi ha seguito nell'ultima apertura finalmente avevo tutto l'ho preso e bam quella stessa sera in mezz'ora di rangaggio frenetico ho portato gamma corvi risvegliandolo a rango 5 che dire corvus è un pg incredibile ora ho un altro cosmico picchiatore fortissimo dopo ela che comunque non stavo usando quindi corvus è il mio ultimo rango 5 felicissimo di averlo e avendo fatto corvus ho anche rangato a rango 4 proxima perché averla in coppia è sempre tanta roba proxima poi in pg che a me piace molto ci ho fatto anche un video sul canale e ora che uscirà l'abisso dove si spera che i pg non avranno cap di danno si potrà probabilmente sfruttare un po di più logan usati i rank up di variante dopo il buff pg interessante spider gwen idem rank up di variante dopo il buff è un pg molto figo hyperion ero in dibattito tra lui e corvus sul rango 5 avrei fatto hyperion se non avessi trovato corvus ho optato per corvus p2 pg diversi nulla vieta in futuro che possa fare anche pirion perché è veramente super forte pulk rosso rangato a rango 4 per sinergia con domino poi ho trovato il 6 stelle ma rimane lì sunspot super tentato da quando l'ho trovato di dargli la gemma generica e portarlo a rango 5 perché lo adoro non penso meriti la generica quindi mi sto trattenendo se dovessi doppiarlo volerebbe immediatamente a rango 5 quake sto aspettando di padroneggiarla al 100% per farla a rango 5 mi sto allenando molto non voglio fare l'errore di rangarla senza poterla padroneggiare benissimo quando sarò pronto probabilmente rangherò anche lei colosso sta lì benissimo a rango 4 molto forte dopo il buff ultron uno dei primissimi a rango 4 pensate che con ultron rango 4 ci ho fatto la strada di lol che ha pat sangue e veleno quindi non ve lo dico neanche tipo un'ora a scontro veramente una cosa incredibile hulk anche l'uno dei miei primi a rango 4 abbastanza dimenticati venom era anche lui in lizza per il rango 5 pg che adoro l'ho usato molto spesso in aq lo uso ancora in aq con la mappa ragni eccetera eccetera veramente fortissimo dopo il buff x23 la mia primissima rango 4 che ho finalmente doppiato dopo secoli guillotine usato in un rank up mistico di variante non c'erano altri pg a cui darlo magic finalmente trovato dopo secoli usato un altro rank up mistico medusa sta benissimo gli r4 con i cosmici che ho e poi iniziano gli r3 ce ne sono un bel po' ci sono tanti pg interessanti che ho anche r3 la cosa misterio killmonger ce l'ha 6s quindi non l'ho rangato torre singolo quindi non l'ho rangato insomma ce ne sono un po' v2 è arrivato tardissimo guemple pure papero con l'obsidian ossidiana voglio vedere cosa succederà con il nerf barra riequilibramento heimdal finalmente trovato utile per la sinergia shiulk sto aspettando di avere iso per rangarla con il rank up di variante e via via così e poi i cessi per quanto riguarda i 6 stelle allora ci sono delle robe interessanti ma sono stato anche parecchio sfigato domino ve l'ho già fatta vedere ho trovato misterio che non mi dispiace se non avessi poi doppiato pure il 5 stelle due volte quindi vabbè iron man infinity war buona pescata hood recente pescata sono molto contento per la sinergia con fantasma killmonger ottimo pg mi ha servito tantissimo in war e in un sacco di altre situazioni pulk rosso lo uso spessissimo lo porto con domino e un pg interessante il resto raga il deserto dei tartari doppiato death pool x force e tutti gli altri sono l'inutilità fatta pg purtroppo ho un 6 stelle in meno di quello che avrei dovuto perché ho aperto domino 15k però benissimo così questi sono i miei pg vabbè non vi faccio vedere vi risparmio 4 stelle e 3 stelle passiamo ora alla mia alleanza sono negli utopia eve alli molto fighe in cui mi trovo benissimo facciamo tecnicamente top 90 q puntiamo su a q e in questa stagione siamo atterrati in platino 2 come war quindi non male decidendo di puntare in a q per quanto riguarda i cristalli al momento sono pieno raso di cristalli a q che non stavo aprendo per non mandare roba in scadenza ma penso che magari a breve farò un video almeno con i cristalli mappa 7 e o mappa 6 abbiamo un sacco di frammenti kata eccetera ho svuotato tutte tutte le schegge 5 stelle 6 stelle con l'ultima apertura stiamo riaccumulando andiamo alle risorse le risorse sono abbastanza interessanti perché in termini di catalizzatori appunto sono a 6 kata 5 quindi potrei fare ancora 3 rango 5 ho un bel po' di alfa 2 13 più tutti i cristalli da aprire che me ne porteranno altri siamo presenti al massimo quasi con tutti i catalizzatori classe ma abbiamo anche miliardi di frammenti da aprire la cosa interessante è la parte dei kata 5 colorati abbiamo 14.000 tecnici quindi non siamo così lontani da un eventuale che non ho assolutamente 6 stelle rango 3 tecnico per quanto riguarda invece l'inventario abbiamo una gemma generica ancora una tecnica una talento una mistica e una scientifica come potete vedere mi mancano solo gemma cosmica e mutante poi è una di tutte abbiamo parecchie pietre generiche sono 95 più 20 generiche più 5 e quelle più 1 abbiamo un po' di più 5 una più 5 cosmica un po' di mutanti un po' di talento le ho date a blade le altre per maxarlo abbiamo 2 per 5 6 stelle talento tantissime pietre scientifiche stiamo aspettando cap da un secolo un rank up 4 5 mutante rank up 2 3 e 3 4 ne ho 3 talento chissà mai che arrivino fury ed egon un altro 4 5 scientifico quindi posso fare 2 rango 5 uno scientifico e uno mutante senza usare kata e un 3 4 mistico abbiamo questi sotto di variante questo verde è per shiulk questo probabilmente lo darò a nightcrawler o a storm se non erro che c'è anche lei qui si esatto e questo qui lo volevo dare a thor probabilmente glielo darò anche singolo e poi vedremo anche perché non ci sono altri pg a venom l'ho già data quindi questa è abbiamo un bel po' di rianimo un bel po' di ricarica energia un bel po' 4 qualche boost insomma il solito andiamo ora a vedere la progressione allora come progressione abbiamo 877.000 di rating questi sono i miei pg siamo circa sui 9.008 di prestigio lo devo un attimo ricalcolare 65 carriere lanza top eccetera eccetera e come eventi siamo a atto 6 abbiamo finito al 100% capitolo 1 stiamo andando avanti piano piano con capitolo 2 e 6.3 fatto il completamento quindi siamo all'apparico ai completamenti un po' meno con le esplorazioni per quanto riguarda gli eventi abbiamo completato al 100% tutte e quattro le varianti molto fighe sfide interessanti ottimi premi a parte la 1 che l'ho trovata veramente veramente un incubo le altre si sono fatte abbastanza abbastanza facile e hanno dato tantissima roba qua siamo a pari con tutti gli eventi come al solito vabbè poco male e sono molto contento di avere finalmente completato al 100% l'abirinto delle leggende è stato un bel viaggione prime strade molto sofferte da quando è arrivata domino e l'ho rangata a rango 2 le ultime sono state molto molto più fattibili sempre con scontri abbastanza stronzini tempo eccetera eccetera ma diciamo che è andata abbastanza liscia quindi anche l'abirinto fatto aspettiamo l'abisso e vediamo cosa ci porterà bene ragazzi allora questo era il mio profilo questa è la mia progressione dei tre anni di game il futuro sarà molto interessante sia per il profilo che per il canale voglio crescere in entrambi i sensi ci saranno nuovi contenuti nuovi video nuovi format penserò a delle nuove cose interessanti da fare per voi spero di stare ancora in quest'alli perché mi sto trovando davvero molto bene e di crescere con loro ho intenzione sicuramente di rangare ancora qualcuno aspettando iso perché purtroppo rangando sono andato a zero quindi adesso aspettiamo un attimino e poi magari sfruttiamo ancora un po' le risorse che abbiamo sicuramente i nuovi pg che troverò se li troverò verranno recensiti o comunque guardo sempre le vostre richieste guardo sempre i vostri commenti cerco di portare contenuti che vi interessino a mente delle cose interessanti uno dei propositi del 2020 è di fare più live quindi voglio fare più live con voi per interagire di più con voi il resto che mi sono sistemato come postazione tutto sicuramente si potrà fare grazie mille il canale ha superato i 900 iscritti quindi siamo quasi ai mille un abbraccione a tutti un'altra volta buon 2020 e buona epifania ci sentiamo presto ci vediamo sul canale un abbraccione ciao